Ora lo si può dire per davvero. Il peggior incubo della VL è diventato realtà. Il 5 maggio 2024 verrà ricordata come una delle pagine più buie della storia della palacanestro pesarese, con i biancorossi che dopo bene 16 stagioni dicono nuovamente addio alla serie cadetta, ufficializzando la propria retrocessione in Serie A2. Per dovere di cronaca, Pesaro non ne retrocedeva sulle campo da quasi 30 anni, visto che quello che successe nel lontano 2005 fu una storia diversa. Sulle campo veneziano la VL resta in partita per due quarti di gioco, riuscendo a chiudere avanti di due lunghezze la pausa lunga, ma nel terzo quarto la squadra di Sacchetti scompare dal campo. Un parziale di 35-11 nel favore dei Veneti spazza via le ultime possibilità dei biancorossi di salutare la Serie A, almeno con una vittoria. Un successo che ai fini dell'esito finale della stagione non avrebbe cambiato nulla, controviso che, vittoriosi in casa contro Tortona, avrebbe comunque condannato Pesaro alla retrocessione. La VL dice addio alla Serie A dopo una stagione iniziata con degli alti e bassi, ma che poi dalla metà di dicembre in poi ha visto precipitare con una serie di sconfitte. Una stagione di grandi cambiamenti, dall'addio dopo poche settimane di Schilling, il pivot tedesco che per problemi fisici a Pesaro non è mai riuscito a dare il suo contributo, passando per il lettaglio di McCallum e alle cambine panchina con l'arrivo di Sacchetti e l'esonoro di Buscaglia. Mochevicius, Cinciarini, McDuffie, Foreman e per ultimo Ludon Love sono ben cinque i giocatori che la società bianco-rossa ha provato ad inserire nel corso della stagione, ma tutti i tentativi di rimettere sulla rotta la barca non sono mai andati a buon fine. Una barca che durante il leggerone di ritorno ha provato a dare dei segnali, come nelle vittorie con Brescia e Bologna, ma che poi, prontamente la partita dopo, ritornava sui propri errori senza dare continuità. Nelle ultime settimane qualcosa di diverso in campo lo si era pure visto nei successi con Sassari, Pestoia e Cremona, ma le tempistiche, unite ai capoine, trasferta a Treviso e Tortona, non hanno potuto evitare la retrocessione. Alla sirena finale di ieri, Cinciarini e Visconti sono stati tra i primi nei lacrime sotto la curva di numerosi tifosi accorsi anche a Venezia e che non hanno mai smesso di incitare la squadra. Un tifo da cui ora dovrà ripartire la risalita della VL. La società biancorossa ha subito voluto diramare un comunicato dove si ribadisce la ferria volontà di risalire subito nella massima serie. La certezza ad oggi però è solamente una. Sarà una lunga estate sia per la dirigenza che per tutto il pubblico biancorosso.